Ad Assisi, nella Basilica Papali di San Francesco, si è tenuto un altro degli appuntamenti di Umbria Music Fest, Messa di Requiem di Giuseppe Verdi, diretta da Walter Attanasi, uno dei capolavori del repertorio lirico-sinfonico di tutti i tempi. La Messa di Requiem è stata dedicata al ventennale del Comitato per la Vita Daniele Chianelli. Attanasi si è avvalso della collaborazione della cieca Bouslav Martino Filarmonico Orchestra, del coro Giuseppe Verdi di Roma e del coro della città di Bratislava.